2 aprile. San Francesco ha amato la Chiesa perché amava Cristo e i fratelli. Si preoccupò di riformare la Chiesa, ma dal di dentro. Come Lutere, forse più di lui, era indignato per il rilassamento dei costumi, ma cercò di compattere i vizi cominciando da se stesso, praticando le virtù. Non si preoccupò di organizzare crociate come fecero gli altri ai suoi tempi, ma scese da cavallo dal suo piedistallo di uovo ricco e montano e si mise a servizio della Madre Chiesa. Abbracciò il lebroso, perdonò i briganti, annunciò l'amore redentivo. Non predicò contro i beni della Chiesa che uffuscavano la sua luce, ma la colmò dei tesori delle sue virtù. Ero convinto che la Chiesa non ha bisogno di riformatori, ma di santi. Questa testimonianza di vita di Francesco d'Assisi è sempre valida, è stata sempre valida in tutti i secoli ed è valida ancora oggi. Nel corso dell'anno comincia il grande ottavario della preghiera per l'unità delle Chiese. È un contributo importante che si dà all'ecomunismo, un impegno per la propria santificazione e una supplica accorata perché il Signore ci aiuti a realizzare quanto Gesù stesso desidera. Per attuare tale progetto bisogna partire dalla conversione del cuore, dalla sentità di vita insieme alle preghiere private e pubbliche per ottenere quanto Gesù stesso ha desiderato. Siamo uno affinché in modo il mondo creda nella nostra unità. Per ottenere un'unità è necessario superare la stessa preghiera delle formule. Cioè noi siamo abituati a recitare le preghiere a memoria o con la corona del rosario. Ottime preghiere ma queste preghiere è necessarie renderle vive, incarnarle nella vita. Le Chiese si uniranno se i cristiani diventeranno caritatevoli, se i cristiani si ameranno perché la chiesa fondata da Gesù si è divisa in tante particelle perché tra i cristiani sono iniziate tante discussioni sulla interpretazione di qualche parola e di qualche salmo della Bibbia. Ognuno affermava la verità della propria interpretazione dimenticando quello che Gesù dice nel Vangelo il più grande tra voi sia servo e lavi i piedi a fratello. Per amare Dio bisogna passare col timbro di approvazione del povero, del bisognoso, dell'assassino, del carcerato. Solo allora noi ci possiamo presentare a Dio dicendo con le carte in regola. Vogliamo che le altre Chiese ritornino all'ovile da cui si sono allontanate. L'unica via per l'unione delle Chiese è un cammino individuale di santità di vita. Dobbiamo amarci, capirci, interessarci delle problematiche degli altri. Molte chiare sono le parole di Gesù. Quando vieni in Chiesa e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta, esci dalla Chiesa, va prima a riconciliarti col tuo fratello, poi ritornerai e porterai il tuo dono all'altare. Dipende da ognuno di noi che la Chiesa sia unita o che non lo sia. Alla Chiesa spetta il compito di far risplendere il messaggio di salvezza portato da Cristo. Un grande tesoro messo in vasi di creta perché appaia che questa potenza viene da Dio. Questi vasi sono tutti cristiani, il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i laici, uomini deboli ma certamente assistiti dallo Spirito Santo per un cammino di conversione. Sulla scia di Francesco padre Pio ama la Chiesa perché è depositaria del mistero della salvezza. La ama come popolo di Dio per i fratelli, si offre vittima per il prossimo. Il pensiero che tante anime vivono nel male lo affligge. Ahimè, quante volte per non dire sempre mi tocca dire addio, giudice come Mosè, o perdona questo popolo, o cancellimi dal libro della vita. Il Papa è il centro delle sue attenzioni perché Vicario di Cristo soleva dire per me dopo Gesù non c'è che il Papa, ma è nella prova della morte della mostra ancora più la sua fedeltà nell'obbedienza eroica. L'espressione già riportata mostra l'eroicità della virtù, dolce la mano della Chiesa anche quanto ci percuota perché è sempre la mano della madre che percuota.